Buongiorno amiche e amici, ragazze e ragazzi, vediamo oggi il secondo commediografo di quest'anno che è Terenzio, autore importantissimo della letteratura latina di questo secondo avanti Cristo. Nasce a Cartagine, Terenzius Afer, viene chiamato proprio africano, intorno all'inizio del secondo secolo. Finirà poi a Roma, dapprima come schiavo, poi liberato e si rimarrà unito da amicizie, da vincoli sia personali che anche clientelari con il gruppo degli Scipioni. Scipione africano e l'amico Gaio Lelio in questi anni, come avete già saputo dalla nostra introduzione, stanno portando avanti una svolta filoellenica della cultura latina e Terenzio è una parte non insignificante di questa proposta culturale. In circa sei anni Terenzio scrive sei commedie, una produzione piuttosto piccola, ma molto significativa, infatti la sua fama ha per certi aspetti superato anche quella di Plauto, che pure è stato un autore ben più prolifico. Nel 59 muore probabilmente durante un viaggio in Grecia per andare a vedere, a visitare i luoghi nei quali erano ambientate le sue commedie. Bene, Terenzio diventa così una delle voci della parte filoellenica diciamo durante questa specie di battaglia culturale di secondo secolo a Roma. Come abbiamo detto legato al circolo degli Scipioni, lui riporta a Roma la elaborazione culturale, filosofica e letteraria che era avvenuto proprio durante il periodo ellenistico della letteratura greca. In particolare al centro c'è proprio l'uomo, la filantropia, questa specie di ideale piuttosto originale per l'epoca, oggi ci sembrerà scontato, secondo il quale l'uomo è al centro della riflessione, quindi l'uomo anche in tutte le sue pathing, nelle sue pochezze, anche nel suo aspetto più privato, più quotidiano, più realistico anche, lontano da un modello di perfezione come era invece stato durante il periodo classico. Si può facilmente riassumere in questo verso dell'autontimo rumenos il pensiero di Terenzio, il pensiero filantropico diciamo. Homo sum humanini a me alienum puto, dice, sono un uomo, non ritengo nulla di umano alieno rispetto a me, tutto ciò che è umano mi riguarda personalmente. Dunque nasce il termine humanitas, che è un termine originale latino, infatti nella filantropia c'è sì qualcosa dell'humanitas, ma l'humanitas è molto più scandito, molto più definito come concetto e sarà un ideale che darà proprio forma poi a tutta una serie di pensatori anche successivi, pensiamo il grande Cicerone o anche nel Rinascimento tornerà questo principio. Non c'è più quindi il riso sguaiato, ma c'è un sorriso, un'attenzione al particolare, all'uomo, ai suoi casi. I personaggi non sono più piatti, ma sono personaggi a tutto tondo, sono tutti personaggi visti in un senso positivo, ognuno di loro ha una motivazione plausibile per agire, non sono solo funzioni, non sono personaggi esagerati, stereotipati e diciamo con i quali noi ci troviamo a essere in un certo senso alieni, rispetto ai quali ci sentiamo alieni, ci sentiamo di essere simili a loro, sono a tutto tondo, sono come noi. La viscomica delle commedie chiaramente cede lentamente il passo a un messaggio morale, questo diventa inevitabile dal momento che appunto l'attenzione si sposta così tanto sul ritratto plausibile delle personalità. Plausibile abbiamo detto ed è importantissimo proprio il realismo in Terenzio, cioè ciò che avviene in scena sembra praticamente un ritratto della realtà. Questo già era stato detto di Menandro, famosa o vita o Menandro, chi ha copiato, quale dei due ha copiato l'altro dei due? È una famosissima descrizione e l'usinghiera che abbiamo ricevuto da tradizione su Menandro, il modello più forte di Terenzio. I tipi funzionali di Plauto diventano delle vere persone con il loro modo di pensare e anche gli affetti stereotipati, gli affetti così fissi, così uguali l'uno all'altro, diventano unici, diventano individuali, i personaggi hanno delle motivazioni buone, condivisibili, plausibili, ognuna delle quali evidenzia un mondo di valori, di pensieri. Anche dal punto di vista proprio drammaturgico scompare la tecnica della parte, che è una tecnica per mezzo della quale Plauto si separava un attimo, faceva separare un personaggio dalla scena e lo faceva interloquire direttamente col pubblico, rompendo la finzione scenica. In Terenzio invece c'è un'anticipazione di quello che sarà poi una descrizione teatrale del nostro secolo scorso, però potremmo usare questo termine, la quarta parete, cioè la linea, meglio il piano che separa la scena dagli spettatori non viene percepita dai personaggi come una parete vuota, ma viene percepita come una parete piena, cioè i personaggi si comportano come se noi spettatori non ci fossimo, come se al posto nostro essi vedessero una parete di casa loro e quindi in qualche modo il dialogo, l'azione è molto realistica, è proprio come quella della vita vera. Va da sé che i temi siano più centrati sui rapporti tra persone, se dunque queste persone sono tutte persone vere, sono tutte persone che vivono una vita autentica, verissimile, al centro della riflessione drammaturgica c'è proprio il rapporto tra queste persone e con tutte le loro categorie, rapporti coniugali tra moglie e marito, rapporti familiari, ad esempio da padre e figlio, ma anche un tema abbastanza escluso fino ad ora dalla letteratura, cioè quello di investigare anche i rapporti tra padrone e schiavo. Chiaramente questo dà l'apertura anche ad alcuni temi di valore, per esempio ci si interroga sulla sincerità tra coniugi, ci si interroga sul valore dell'educazione, quale sia realmente il potere dei padri sui figli, ricordiamo che a Roma il padre aveva diritto di vita o di morte sul figlio, quindi interrogarsi su quale sia il modo giusto di educare un figlio era per l'epoca un tema assolutamente dirompente nella società patriarcale, molto forte, molto chiusa, molto fissa, ma anche la possibilità di vedere gli schiavi come delle persone capaci persino di fare un sacrificio del proprio utile a favore del padrone, a favore di altri, insomma, vederli come persone dotate di un'affettività, di una capacità di sentire e di agire è senza dubbio una grande novità per l'epoca. Ecco, dal punto di vista drammaturgico c'è anche un'altra grande novità, cioè i prologhi di Terenzio, ovvero la parte che sta all'inizio di ogni commedia, non è più un luogo dove anticipare la narrazione, così era stato in Plauto, perché si sentiva che in qualche modo, almeno pare che Terenzio sentisse che anticipare la narrazione togliesse mordente alla narrazione stessa. Plauto anticipava nei suoi prologhi non solo l'antefatto, ma anche buona parte poi dello svolgimento. Terenzio invece pensa al prologo come uno spazio dell'autore, come dirà poi Manzoni al cantuccio dell'autore, lo dirà di sé Manzoni, non di Terenzio. Terenzio, scusate, ho detto Plauto, no, Terenzio usa il prologo come lo spazio dell'autore, come un luogo dove lui può fare una parentesi personale, è all'inizio, quindi non interrompe la finzione scenica, fare una parentesi personale in cui parla proprio con la propria voce, rispondendo alle critiche che gli erano piovute addosso nelle commedie precedenti. In particolare abbiamo tre critiche che gli vengono mosse e che sono molto interessanti per capire quale fosse il dibattito dell'epoca. Tanto per cominciare gli viene mossa la critica di fiacchezza, cioè la sua commedia così attenta a dei dialoghi verissimili, delle situazioni verissimili a una lingua verissimile, come poi vedremo, mancava di tutti quegli elementi che facevano ridere in Plauto e anche in altri commediografi, mancava delle battutacce, delle bastonate che si prendeva al servo o il padrone, mancava delle esagerazioni linguistiche, tutta la parte scurrile, anche mancava delle canzoni per esempio, no? Perché Plauto aveva un sacco di musica nelle sue commedie, mentre Terenzio soprattutto puntava, anzi soltanto puntava sul recitato, quindi c'era una certa fiacchezza. Giulio Cesare di Terenzio lo chiamerà Menandro di Mezzato, perché appunto Menandro, che era il modello a cui si ispirava soprattutto Terenzio, era molto più comico di Terenzio stesso. Un'altra critica da cui si difende è quella della contaminatio, come abbiamo visto in Plauto questa era un'abitudine abbastanza diffusa all'epoca di Plauto, ma probabilmente nell'epoca di Terenzio si era venuta, aveva prevalso una tendenza secondo la quale ogni opera doveva essere la traduzione, chiaramente con tutta la traduzione infedele tipica dei romani, ma la traduzione di una e una sola opera di un autore greco. Terenzio si difende e difende la sua scelta, mostrando come anche prima di lui altri l'avessero fatta e comunque insomma rivendicando la importanza della scrittura, l'importanza della scrittura latina, della propria lingua più che dell'ispirazione a temi o a scene di commedie altrui. La terza e ultima critica dalla quale si difende è quella di plagio e questa è interessante perché non si intende plagio di modelli greci, che era come abbiamo detto, non solo era accettato ma anzi era istituzionalizzato, gli si chiedeva di fare una traduzione, ma plagio di un autore latino che aveva già tradotto un modello greco, ovvero non andava giù ai suoi detrattori che Terenzio avesse riproposto una commedia greca che in questo caso era già stata latinizzata da un altro autore latino, cioè Nevio. E in questo senso il plagio quindi non sta rispetto al greco, si sa, i greci sono fatti apposta per essere plagiati, sono il serbatoio di tutto, no, sta rispetto all'autore latino. Plauto ha fatto male, diciamo, a riproporre una commedia già proposta da un altro romano. Bene, veniamo per concludere alla lingua e allo stile di Terenzio che sono senza dubbio l'aspetto più forte della sua produzione, infatti sono ciò che gli è valso anche la maggior stima e interesse da parte dei suoi successivi, degli autori successivi e dei lettori successivi. Infatti il purus sermo, una lingua pura, una lingua molto colta, molto moderata, una lingua che insomma sia il mezzo espressivo migliore per rappresentare questi drammi che avvengono in casa, ma in casa di gente di una certa levatura, che parla bene, che ha un cuore profondo, che ha delle motivazioni buone, non è insomma la lingua esagerata di Plauto, non è la lingua plebea di Plauto, è una lingua dotta, semplice e molto selezionata. Questo sermo purus valse una enorme fortuna a Terenzio, infatti già nell'antichità egli era ricordato per questa sua caratteristica, si ricordavano tre grandi comediografi, Plauto, Stazio e Terenzio, e a Terenzio di sicuro viene ricordata non solo una grande capacità, viene riconosciuta una grande capacità di ritrarre i sentimenti, ma anche da Cicerone persino mi pare una cura nella stesura dei suoi dialoghi, proprio questo sermo purus. Durante tutto il Medioevo Terenzio fu praticamente imitato, riproposto, antologizzato tantissime volte da chiunque desiderava scrivere di genere teatrale. Ricordiamo la grandissima Roswitha di Gandersheim, una religiosa che scrive dei drammi di argomento cristiano molto belli e usa praticamente una parafrasi della lingua di Terenzio, questo è per dire soltanto un esempio, Roswitha di Gandersheim. In età moderna addirittura Terenzio era diventato il testo su cui si imparava a dialogare in latino, uno dei testi fondamentali nelle scuole latine di tutta l'Europa rinascimentale. Erasmo, per dire, che fu educatore alla latinità di mezza Europa, l'esse prese in prestito da Terenzio, l'esse Terenzio prese in prestito da Terenzio, lo utilizzò in tutti i modi per creare quel linguaggio puro, semplice, scelto, elegante che Erasmo avrebbe usato nei suoi Colloquia, uno dei testi dialogici più famosi di tutta la storia della latinità, proprio la purezza della lingua di Terenzio gli valse in qualche modo una fortuna grandissima, sia presso i suoi contemporanei o immediati successori, sia presso i suoi successori di lungo periodo. Ancora noi oggi lo leggiamo e ancora per noi oggi Terenzio è senza dubbio meno brillante di Plauto, ma molto più vicino al nostro modo di sentire.